Buon fine settimana, iniziamo con il segno zodiacale della riete. La giornata di oggi, amore 5, lavoro 4, fortuna 5. Come vi ho? I prossimi mesi, domenica, abbiamo una situazione un pochino in calo per una dissonanza della luna, amore 3, lavoro 3, fortuna 4, un po' in calo fisicamente i segni di fuoco. Andiamo al segno del toro, il toro che già vive di ansie, perché è un segno piuttosto attaccato alle cose materie. Così la giornata di sabato invece sarà un po' più tranquilla per l'amore, ma ancora un po' più tranquilla per l'amore, La giornata di domenica è assolutamente interessante, amore, fortuna 5 stelle, lavoro 4. Sabato, domani, abbiamo 4 stelle in amore, lavoro 3, fortuna 4. Andiamo ai voti per questo weekend. La riete merita un 8 e mezzo, di che per voi non finiscono mai. Il segno del toro, 7, è importante adesso riscoprire l'amore. 10, l'acquario recupera anche fisicamente, qualche preoccupazione sarà superata, 7 per il segno dei pesci che deve ritrovare un po' di stabilità in famiglia. Grazie, vi aspetto alla prossima.